crutch bind set benvenuti cari amici al canale dump at rugby tristezza tristezza il video che veramente mai avrei voluto fare e probabilmente non voglio fare nemmeno in questo momento perché sapete benissimo che mi segue dal primo giorno quanto poco mi piaccia parlare di cose extracampo quanto mi piaccia parlare di rugby quanto mi piaccia parlare di mete di protagonisti e quanto invece mi stia sul cavolo parlare appunto di cose extracampo però e tra l'altro ho l'aereo tra un paio di ore il video che faccio proprio di corsa prima di uscire di casa perché sto andando a treviso ero contento di andare a treviso di tornarci dopo tre anni di riabbracciare la mia città di andare a la mia squadra di vedere voi di conoscere tante persone nuove e rivedere i vecchi amici e invece ho un magone incredibile oggi in gola e devo fare un video non tanto per sfogare me ma perché credo che su queste cose il silenzio possa essere travisato e quindi credo che sia importante parlando di rugby tutti i giorni credo che sia importante dirvi qual è la mia posizione e lasciarla insomma ben chiara e come farlo sì mi sarei potuto limitare al twitter mi sarei potuto limitare al post di instagram però lo devo fare con un video perché la maniera mia di comunicare l'ho fatto dal primo giorno e quindi insomma io credo che oggi non fare questo video sarebbe ingiusto soprattutto nei vostri confronti e che è la cosa qui a cui ci tengo di più volevo non farlo non solo perché non mi piace fare video di questo genere ma anche perché non voglio che si pensi assolutamente che voglia speculare su questa cosa fare la chiapa like insomma però va bene voi mi conoscete e sapete sapete bene le ragioni per cui per cui faccio le cose allora di cosa parliamo parliamo ovviamente del caso traurè sheriff traurè pilone del benetone della nazionale questa mattina ha pubblicato un post la mattina presto probabilmente gli costa probabilmente tutto quello che io dico e con il beneficio del del condizionale perché ovviamente non ero presente e quindi mi baso su quello sui dati e quindi sui fatti su quello che si conosce sicuramente la cosa sicura è che sheriff traurè ha pubblicato un post gravissimo gravissimo per i fatti che gli sono accaduti ovviamente non perché lui lo abbia pubblicato e che dice le seguenti parole probabilmente anzi quasi sicuramente molti di voi lo sanno però lo rileggo velocemente sta arrivando natale e come la tradizione squadra il momento del sequel santa un momento conviviale scherzoso un momento dove ti puoi permettere di fare regali anonimi ai tuoi compagni di quelli anche pungenti ironici ieri quando è stato il mio turno all'interno del mio regalo ho trovato una banana una banana marcia dentro un sacchetto dell'umido oltre al fatto di reputare il gesto offensivo la cosa che mi ha fatto più male è vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere come se tutto fosse normale sono abituato o meglio mi sono dovuto abituare a dover far buon viso a cattivo gioco ogni volta che sento battuta sfondo razzista per cercare comunque di non inimicarmi le persone vicine ieri è stato diverso però fortunatamente alcuni compagni soprattutto stranieri hanno cercato di supportarmi fuori dall'italia un gesto come questo è condannato gravemente anche all'interno di piccole realtà e questa volta voglio dire la mia non ho dormito tutta la notte a questo secret santa erano presenti anche ragazzi giovani di origini diverse ho deciso di non stare in silenzio questa volta per fare in modo che episodi come questo non succedano più per evitare che altre persone si ritrovino in futuro nella mia situazione attuale e sperando che il mittente impari la lezione pensate questo post lo ha messo adesso sono le quattro qua instagram mi dice sei ore fa quindi immagino verso le 9 10 di mattina magari prima di andare all'allenamento e immaginate quanto dolore doveva avere nel cuore sheriff per mettere questo posto e quindi ho intitolato questo questo video coraggio e tristezza perché il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato cazzo che coraggio è stato ancora prima di pensare alla parte negativa mi è piaciuto pensare a quella positiva cioè a dire e l'ho scritto poi anche in twitter ho detto e in instagram io ho sempre pensato che la qualità più importante e immancabile in qualsiasi regbista è il coraggio già solo il fatto di mettersi gli scarpini e giocare il nostro sport richiede una bella dose di coraggio il coraggio di magari non seguire la corrente no già il fatto di scegliere appunto il rugby vuol dire scegliere qualcosa di diverso in più il coraggio in campo caspita cioè affrontare dei bestioni che ti arrivano a 400 all'ora e andare a placarli eccetera 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 adesso non mi voglio concentrare su questa su questa parte bene il coraggio ovviamente non lo puoi avere solamente dentro il campo lo devi avere anche fuori e sheriff traoré questa mattina ha dimostrato di averne tonnellate di averne una quintalata perché pensate nell'essere dentro un gruppo ti stai allenando magari per giocare il derby magari per vivere qualche altra avventura con la nazionale italiana eccetera 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 e decidere decidere di esternare al mondo intiero sapendo che ovviamente verrai strumentalizzato che ovviamente non c'è chi aspetta altro per darle per darne giù al rugby eccetera eccetera sapere quello che accadrà però avere il coraggio di esporre i propri sentimenti invece di mangiartelo eh insomma complimenti anche perché poi questo coraggio aiuta tante altre persone aiuta tante altre persone di fatti lui stesso lo dice ehm spero che questo messaggio serva a limitare in futuro questo tipo di comportamenti e e l'ha fatto anche e probabilmente soprattutto per i suoi compagni per i suoi compagni di squadra quindi complimenti sheriff veramente complimenti grande complimenti grandissimo ehm poi però questo lo questo titolo questo video l'ho nominato coraggio e tristezza perché ovviamente non è che ci possiamo fermare alla parte positiva della storia perché ce n'è veramente poco di positivo ehm tristezza tanta cioè io oggi sento veramente una tristezza abbastanza profonda eh uno per tre ore perché mi viene in mente che cosa sta vivendo dentro questo ragazzo che non se lo merita io non ho la fortuna di conoscere personalmente sheriff tra ore ma nessuno si merita una cosa del genere e e poi quindi tristezza profonda per lui ma poi tristezza anche per chi ha compiuto il gesto perché questo gesto denota una profonda profonda mancanza di qualcosa di qualcosa che io considero straimportante nella vita che è l'empatia l'empatia ehm guardate qualcuno ad esempio oggi ha parlato ha paragonato questo gesto al gesto di matera eccetera eccetera io ci trovo delle delle differenze abbastanza importanti perché questo gesto fatto verso un compagno di squadra un compagno di io ricordo la prima volta che entrai in una squadra ehm in Lituania al primo allenamento mi presero dentro e mi dissero eh lui è il nuovo membro della famiglia bene tu a un fratello non fai una cosa del genere a un un padre a un figlio non fa una cosa del genere un figlio a una madre a un padre non fa qualcosa del genere ehm perché un conto sono le condannabili condannabili senza sé e senza ma ehm espressioni generali no generalistiche contro un un nemico immaginario di qualsiasi tipo sia no ehm una certa nazionalità una certa religione una certa caratteristica espressioni comunque immaginabili che probabilmente eh esprimono rabbia disagio forse volere fare eh volersi fare belli voler essere voler essere parte di un gruppo eh cose che tanti hanno vissuto soprattutto in gioventù e in adolescenza però fare una cosa che riesce a far stare profondamente male un compagno di squadra probabilmente per idiozia cioè probabilmente per idiozia eh probabilmente alla base di questo c'è una profonda ignoranza dal punto di vista eh proprio dell'empatia umana dell'empatia umana già nel ritenere un gesto simile accettabile vuol dire che insomma non si sono capite tante cose ma poi farlo a un compagno di squadra senza pensare minimamente a come si potrà sentire quella persona questo beh denota veramente una grande grande mancanza di empatia e attenzione voi che conoscete il canale sapete che io sono sempre sempre contro ogni tipo di moralismo ogni tipo di giudizio cerco sempre di mettermi eh nelle scarpe delle altre persone tant'è vero che quando abbiamo parlato di rugby contro altri sport ho preso una certo un certo tipo di posizione dico sempre che eh mi piace di più parlare del gioco perché alla fine è la cosa che che per me conta eccetera eccetera quindi se c'è uno che è sopra questo voler giudicare mettere il dito sono io però di fatti io qui non sto nemmeno giudicando dico solo che questa cosa mi genera un'enorme tristezza e un'enorme amarezza ehm tre mi mi tristezza anche perché e questo è quello che conta che conta meno ehm mi spegne proprio qualcosa dentro di me io stavo partendo tra due ore vado in aeroporto con una gioia incredibile questo progetto l'ho iniziato ma questo vale è il minimo però diciamo questo progetto l'ho iniziato ormai esattamente un anno fa il ventiquattro dicembre ehm del dell'anno scorso e venivo giù a treviso domani sarei dovuto andare in virada a fare un video con i giocatori eh ovviamente è stata annullata la cosa perché immagino che lì ci sia tutt'altro che un'atmosfera da fare un video di youtube eh teoricamente domenica sarei dovuto andare allo stadio per fare la live dallo stadio anche quella non ho ben capito se potrò o non potrò farla e e e quindi insomma ho un senso di tristezza ma non tanto per eh quello che si è annullato ma perché io prima di tutto da tifoso di treviso da ehm amante della della città dove sono cresciuto eh da 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 persona di rugby mi sentivo felice di andare a a toccare quasi con mano no ehm i miei i miei idoli dai eh anche se eh tanti li ho ho avuto la fortuna di conoscerli eh quantomeno così in maniera digitale ed ero felice no? Ero felice ho detto avevo coinvolto mio figlio avevo coinvolto un sacco di cose e alla fine eh questo non si riesce più a fare e quindi insomma questo crea un una tristezza però il mio problema è eh irrilevante rispetto al a quello che è accaduto e a quello che questo questo fatto genera prima di tutto in Sheriff Traoré e poi il danno anche alla società Benetton e al mondo del rugby eh anche perché questo caso è diversissimo da tanti altri perché non è una singola persona che compie un gesto non è nemmeno una tifoseria non è nemmeno ma è eh una squadra che in qualche maniera ehm è accondiscendente con un gesto totalmente imbecille con un gesto totalmente imbecille almeno qualcuno magari dirà no non siamo condiscendenti per niente bene ok ditelo dimostratelo eh secondo me questo è il momento eh dove anche da parte dei ragazzi di Treviso ci vuole coraggio per esempio io immagino che ci siano state delle dispositive eh societarie su come comportarsi ci sta è normale che sia così eh però ho visto tanti eh tanti apprezzamenti tanti messaggi tanti like eh pubblici 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 presi di posizione anche a me costa fare questa presa di posizione ma sono dovute signori sono dovute sul messaggio di Sheriff Traoré da compagni suoi della nazionale ehm all'estero alle zebre eccetera eccetera non mi sembra fino fino al momento di oggi ma sicuramente sbaglierò ehm che ce ne siano dei compagni del Benetton ehm credo che dovrebbero essercene credo che al di là della presa di posizione della società ehm ce ne debba essere ce ne debba essere una anche pubblica come perché poi sì sono dipendenti della società Benetton Rugby sono giocatori di rugby sono giocatori della nazionale ma prima di tutto siamo cazzo persone no prima di tutto siamo persone quindi io credo che se tu sei un personaggio pubblico tu abbia abbastanza il dovere di prendere posizione in questi casi e mi spiace di farlo anche abbastanza in fretta perché perché non è veramente accettabile e poi infine l'ultima tristezza è perché appunto essendo una cosa non di un singolo ma di un gruppo sono sicuro che farò fatica almeno per un po' di tempo ehm a guardare con gli stessi occhi il Benetton voi sapete quanto io gridi i le mete del Benetton quanto mi arrabbi quanto gioisca quanto rida quanto scherzi che eh a volte arrivo quasi perfino a piangere in alcune situazioni e insomma mi ha mi ha proprio scaricato di entusiasmo questa cosa che è successa e e già sabato già sabato vediamo ma credo che eh farò fatica farò fatica e e sapete quanto importante eh ho dietro la maglietta del Benetton non per caso la maglietta della nazionale e insomma praticamente in questo canale ho fatto un video sul Benetton quasi ogni giorno e insomma bene quindi questi sono i miei sentimenti volevo semplicemente condividerli con con la community che per me resta la ragione più importante per cui faccio questo canale infine un messaggio ai ragazzi un messaggio ai leoni eh io sono un signor nessuno quindi magari non me ne frega niente di quello che dico io però secondo me ragazzi eh avete eh commesso collettivamente ehm un un grande errore un grande avanti un grande eh fuorigioco un placaggio alto un qualcosa di cui eh da cui bisogna ripartire in un'altra maniera e e quando dico ripartire in un'altra maniera come ogni placaggio no? Come ogni partita buttata al cesso come ogni cosa bisogna in qualche maniera rialzarsi no? Il rugby è questo che c'è insegnato a essere a rialzarsi e a essere coraggiosi essere regbisti dentro e fuori dal campo e allora io veramente ehm vi invito a esserlo a esserlo sia internamente che esternamente mi spiace ma questa volta non ci si può rintanare semplicemente dentro uno spogliatoio eh per quanto sia importante a volte fare gruppo no? ma io credo che vadano prese delle che bisogna che serva uscire e fare un passo avanti credo che serva uscire e fare un passo avanti ma farlo non con iniziative simboliche farlo di cuore dire veramente di cuore cosa sentite dentro e cosa pensate perché la comunicazione non è solamente un teatrino e qualche dichiarazione di comodo ehm comunicare per uno sportivo per un personaggio pubblico significa creare un filo creare empatia intercettare il pensiero dei tifosi della gente che vi ama dei bambini che vengono dei bambini che vengono con le magliette bianco verdi allo stadio ma veramente voi pensa voi volete che quei bambini lì pensino che siete un gruppo di razzisti beh insomma o o anche un gruppo di imbecilli o anche che pensino che siete un gruppo di imbecilli non io credo che non siate credo che siate e siete dei leoni siete coraggiosi ehm qualcuno di voi ho avuto la maniera di parlare un po' di più con qualcuno un po' di meno ma vi sostengo e vi guardo tutte le settimane e e mi piacerebbe veramente che ci sia una reazione di gruppo ma anche individuale perché non siete solo una squadra siete un gruppo di 60 individualità quindi come io danilo patella ognuno nel suo modo ma come io mi sono sentito di dover dire quello che sento nel cuore io credo che tutti voi dovreste in qualche maniera fare la stessa cosa eh sia come squadra perché a volte è facile nascondersi come squadra ma farlo sia come squadra ma eh farlo ovviamente con un sheriff ma immagino che la gran parte di voi lo abbia già fatto spero ma anche farlo individualmente cioè cazzo avere il coraggio di fare un passo avanti avere il coraggio di fare un passo avanti bene questo è il è il mio pensiero può essere condiviso o meno condiviso ho cercato di metterlo ehm di esprimerlo con maggior chiarezza possibile eh col cuore e per il resto solito fischio finale un bacio ci vediamo ci vediamo presto ciao